Si va ragazzi, rieccoci, bentornati a tutti sul canale di Nickwing Game, riprendiamo da dove ci siamo lasciati la volta scorsa, siamo all'interno di queste miniere, abbiamo anche il nano che ha chiesto il nostro aiuto per cercare suo fratello. Siamo arrivati in un bifio, c'è questo stanzone enorme e poi c'è quest'altra strada qui a destra. Entriamo prima qui perché sicuramente questa è una stanza e basta, sicuramente. Ammazziamo tutti, vai! Io non so da dove cavolo li prendono questi sassi. Comunque il nano me lo ricordavo più cattivo perché effettivamente lo ammazzano subito, cioè lo danneggiano subito, va subito al tappeto. No, in realtà c'è un altro portone là. Sarà questa la strada giusta? Io mi ricordo poco eh, perché l'ho giocato, come già detto, l'ho giocato tantissimo tempo fa, non mi ricordo quasi nulla, a parte qualche zona vagamente. Poca roba, poca roba. Attaccate, dai! Tutto ciò per... Niente? Ci sono due bauli qui, vai! Aia! Bastone distorto, arco lungo danneggiato, che non possiamo prendere, ai! Vabbè, ci sono un sacco di soldi. Andiamo! Ragazzi, come sempre, fatemi sapere la vostra, mi raccomando, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Salve! Non ho ancora capito che cavolo sono stifosi. Però fanno male... Bestiare. Qu'è sto? Isto cosa qui? Niente? Ok. Ci vorrà ancora un po' per arrivare alla prossima città. No! Dai! Siamo caduti! Aia! Siamo caduti per... E' pieno lì. Magari aspettiamo un attimo per non sprecare fialette. Aspettiamo un attimo. Ok ci siamo ripresi. Possiamo andare. Ammazziamo a questi. Sono in tanti. Stiamo attenti. Fialette pronte. Ghiorno sta già carappando. Curati Ghiorno. Ma Ghiorno. Ma c'è un po' di con lui. Pazzo. Ammazziamo a questi prima. Dai. Oh chiocco. Ci sono dei nani morti. Cosa sono? Ahia. Ahia. Ok Hai No Ammazza l'ammazza Lì c'è un gigante di pietra L'ho Qui Ho visto Ho visto Ho visto Aspetta Buttatelo giù questo Ammasso di roccia Ehi Ok E che cazzo va Dove sta andando il muro È andato a prendere quello Perché Non mi serviva Dai ripigliati un attimo. Velocce! Ci sei? Mi avete una pozione e andiamo. No, no, no. Salvatina perché sono da un po' che non salvo. Bisogna salvare spesso, ragazzi, soprattutto in questi punti. Cioè, più si va avanti, più bisogna salvare abbastanza in maniera frequente perché si muore spesso. Che fare? Risuscetti la gente? Guarda questi! Guarda questi! Quindi c'è niente? Non c'è niente, non c'è niente. Dai, però anche voi a bere la pozione quando non serve. Eeeh, cos'è un raduno di cani, di cani randaggi. Guardateli questi, oh, guardate questi come lanciano sassi e palle di fuoco. No, Giorno. Nooo. Dai. Piano piano. In fila indiana, eh. Ma porca troia. Uccidetteli. Ma molto ci vuole, dai. Qui sono in tanti. Qui sono davvero in tanti. Vieni, 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 cagnolino, vieni. La. Oh, oh. Ok. Bastardo. Ok, ce l'abbiamo fatta? Vediamo un po' che c'è qui. Scorpione. Tutto c'è. Tutto c'è. Acconi. No. Non. Dai, mentre si ripigliano un attimo, raccogliamo queste cose. E' un mo'? O, chi ho? Oh, 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 oh! Yes! Spada! Prendi la spada. Eeeh... Cazzo, cazzo. Siamo soli. Bevi, bevi, bevi. Dai, ammazzalo, ammazzali. Ammazzalo. Bravo. Devo assolutamente passare in rassegna tutto quello che ho dentro il muro. Danni 29. Danni 19. Non ci sta. Difesa 44. E' un casino, ragazzi. No, non... Non può usarlo, quest'arco. Non può usarlo, quest'arco. Il pezzo, perché altrimenti... Eh, danni 19, ok. Danni 18. 23, 4... 35, vai, usa. Indossa. 4, 2, 2, butta, 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 butta. 3, 2... 18. 18. 4, butta. 23. Non può usarlo. Da 26 a 47. Eeeh... Vediamo. Cazzo. Difesa 60. Quest'arma possiamo usarla. 23. 19. 19. 18. Non può usarla, questa... Quest'asce. Neanche lui. Eeeh... Difesa... Allora, chiede, è forza 16. Noi, quanto siamo? Forza 17. Aspettate un attimo. Vai, indossa. Ok. Di fase 35, chiede, chiede, è forza 13. Forza 14. Forza 14. Purtroppo alcune cose devo per forza buttarle. 18. 35. 35. 35. 35. Sti cazzo di bastoni Difesa 44 Bammà Difesa 6 Difesa 6 Vabbè lasciamo così dai Sì Qui che c'è? Qui c'è qualcosa Sì Mi sto perdendo Ve lo giuro Mi sto perdendo Allora Qui sono andato Noi siamo arrivati Qua Qua Ma qui siamo passati No siamo passati Sì però Non ci sto capendo più niente Continuiamo per di qua Che roba Aia Butalo giù Grande si la strada è questa la strada è la strada Ehm, salva, salva, salva Cos'è quello? Tutti dentro, tutti dentro Veloci No Cazzo Che roba è quella? Vabbè dai Oh voi, cazzo fate Salite Mulo Ma perché cazzo stai fermo? Aspettiamo un attimo il mulo perché altrimenti qua Ci perdiamo eh Se ci dividiamo così Allora, visto che c'è un essere strano a due teste qua in fondo Meglio salvare Meglio salvare Vai, attaccatelo Aia Oh Scure Ok, clava Questi cani sono diversi Dove cazzo è andato il mulo? Vieni qui Vieni qui Dentro, dentro Niente Oh, dura un attimo eh Bisogna portarli a due a due Bisogna portarli a due a due Dai, 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 dai Per quale cazzo di motivo sei tornato indietro tu? Ma dai No, vabbè, non ci credo Cioè, un secondo rimane quel cazzo di coso Si ferma un secondo ragazzi Ok, ci siamo? Meglio salvare Meglio salvare che qui c'è un sacco di gente Dai, 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 dai Eh, il muro rimane lì per il momento Rimane un attimo su Ok Quaggiù è pericoloso assai C'è troppa gente Troppa, troppa gente Non 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 Eh cazzo Da quello Ok Qua Sicuramente si va dall'altro lato Eh però Buttiamo un occhio qui Qua c'è una cassa C'è un bauro Oh questi ci droppano Un sacco di soldi Minzega guardate questo bauro Cosa tutto conteneva Armatura di cuoio rigido incrinata Ammazza l'opera Che non possiamo trasportare Eh Sali sal No Aspettiamo Vai 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 Però che carino il nostro muro eh Troppo figo Carico di roba Ci siamo tutti Sì Sì Sì, sì. Vai, sfascia tutto. Ok. Andiamo. Grande, calotta, raccogli. Qui mi sa che non succede niente. Soldi, soldi, soldi. Soldi, 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 soldi. Che cazzo è successo? Siamo morti tutti. No, non ci credo. Cos'è successo? Non so, ragazzi, cosa sia successo, ma siamo morti tutti quanti. Ma. Mistero. Attenzione. Salvo, per sicurezza. Ok, non è successo niente. C'è un baule enorme, gigantesco, proprio, e non c'è niente dentro. Che cazzo ci sta a fare allora lì col baule? Spada... no, volevo la spada. Mulo, dove stai? Prendi la spada. C'è un altro ascensore. Ascensore, piattaforma. Che non so se ci porta in basso o in alto. Io voglio uscire da stai cazzo di miniere. Cazzo, ammazzate da quello. Cazzo. 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 dove cazzo te ne vai questi qui sono bastardi perché infieriscono contro i compagni caduti quindi sono veramente strozzi ok Ok. Ok, sì, mi sa che ci fermiamo qui ragazzi, ma siamo a questo, poi ci fermiamo. Anche perché devo capire se devo salire o scendere o se devo andare dritto. Ok. Mulo, dove stai? Riuniamoci qui. Ragazzi, mi fermo qui con questo episodio, siamo ancora dentro. Spero, queste fotutissime miniere, speriamo di riuscire ad uscirne al prossimo episodio. Come sempre, fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.